Ciao a tutti e benvenuti da AVM a questa video mini guida dedicata a Fritz. In questo tutorial illustreremo come accedere da internet al vostro Fritzbox in ufficio a casa quando siete in mobilità o vi trovate in un luogo diverso da quelli in cui hai installato il prodotto. Per tutti coloro che utilizzano un Fritzbox di ultima generazione, AVM mette a disposizione gratuitamente il servizio MyFitz. Con MyFitz potete associare al vostro Fritzbox un identificativo di rete nome host che resta sempre lo stesso anche se l'indirizzo IP pubblico dell'apparato cambia nel tempo. In questo modo è possibile navigare l'interfaccia web del dispositivo da qualunque connessione internet oppure controllare i propri dispositivi da remoto anche se sono collegati alla rete LAN o a quella wireless del router. Assieme a MyFitz si attiva in automatico anche la funzione di manutenzione remota del vostro Fritzbox per controllare in mobilità ad esempio i servizi di telefonia e di rete e per sfruttare a meglio le applicazioni mobile come Fritz app Ticker e MyFitz app. Inoltre questo servizio agevola notevolmente l'utilizzo della rinnovata funzionalità di NAS e facilita l'accesso da remoto anche tramite il protocollo FTP per condividere i dati del vostro disk anche quando non siete a caso in ufficio e tramite il PC o dispositivo mobile. Aprite la pagina in un browser e digitate nella barra degli indirizzi fritz.box Successivamente inserite la password per entrare nell'interfaccia web del vostro dispositivo. Per attivare gratuitamente il servizio MyFitz al vostro Fritzbox è necessario disporre di un indirizzo email attivo e di un collegamento all'internet. L'indirizzo email sarà utilizzato nel processo di registrazione e per accedere al portale online MyFitz come vi illustreremo più avanti. Entrate quindi nella sezione MyFitz del menu internet. Nella finestra corrente inserite la vostra casella di posta elettronica e una password a vostra scelta in corrispondenza dell'opzione nuovo account MyFitz. Cliccate su avanti per procedere. Assieme al servizio MyFitz il Fritzbox attiva automaticamente la manutenzione remota dell'apparato. Selezionate per questo il nome da associare al vostro account amministratore del Fritzbox e la sua corrispondente password. L'account di amministratore è quello che vi consente di accedere al vostro dispositivo a partire da internet e di controllare i servizi e funzioni anche in mobilità. Quest'account è distinto da quello MyFitz e per questa ragione vi suggeriamo di utilizzare delle credenze diverse da quelle inserite prima. Cliccate su avanti per continuare. Per finalizzare la procedura di attivazione bisogna confermare la registrazione al servizio MyFitz. Entrate a questo punto nella vostra casella di posta. Lì troverete l'email che MyFitz ha spedito per completare l'attivazione. Aprite l'email, cliccate sul link di conferma e dopo aver letto ed accettato i termini di utilizzo del servizio attivate tramite il pulsante. Dopo aver attivato MyFitz sarete reindirizzati automaticamente alla pagina di login dell'interfaccia web del Fritzbox. Entrate nuovamente nella sezione MyFitz del menu internet per verificare lo stato del servizio. Se il vostro account MyFitz non risultasse ancora attivo, cliccate su aggiorno a stato finché l'indicatore non diventa di colore verde. Per verificare l'avvenuta attivazione della manutenzione remota del vostro dispositivo, entrate nel menu internet, abilitazioni, servizi Fritzbox. Qua troverete le informazioni sull'indirizzo, ovvero lo stream assegnato automaticamente al vostro router e l'attivazione dell'accesso a Fritzbox attraverso internet. Per navigare l'interfaccia web del vostro Fritzbox a partire da qualunque accesso internet, quindi anche quando siete in mobilità, la VM mette a disposizione dei suoi clienti un portale online. Nella nuova pagina di un browser, digitate nella barra degli indirizzi www.myfitz.net Inserite quindi l'indirizzo email e password utilizzati per l'attivazione di MyFitz come login. Dopo aver accettato il certificato di sicurezza, sarete reindirizzati sul vostro Fritzbox. A questo punto dovrete utilizzare le credenziali di amministratore in precedenza configurate. Infine, cliccando in alto a destra sul link Fritzbox, potrete entrare in questo modo nell'interfaccia web del vostro dispositivo. Un utile suggerimento è quello di salvare il link tra i preferiti. Potrete così sfruttare questo collegamento per i successivi accessi da remoto. Attraverso questo link, cliccando poi su FritzNAS, potete entrare anche nella nuova interfaccia web dedicata al controllo delle funzionalità di nastro integrato, per gestire così file, immagini, musica, film e documenti. Anche quando siete geograficamente lontani dalla sede in cui installate il vostro Fritzbox e con il vostro smartphone o il vostro tablet. Inoltre, tramite il pulsante di abilitazione potrete condividere file o cartelle generando un collegamento diretto ai contenuti selezionati da spedire in un messaggio ad amici o colleghi di lavoro. alle facili centro Al prossimo Kingsli Al prossimo episodio Grazie a tutti.